Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org In un articolo su Corrispondenza Romana mi sono soffermato sulla figura di Elon Musk, il magnate americano di origine sudafricana che ha acquistato Twitter e che ha creato aziende innovative nel campo delle energie rinnovabili e nella conquista degli spazi stellari. Un personaggio che crede nella possibilità dell'espansione cosmica dell'umanità ispirandosi al movimento culturale dei cosmisti russi. Chi erano questi cosmisti? I materialisti ottocenteschi negavano ogni forma di immortalità dell'anima sostenendo che tutto è materia e la morte del corpo ci precipita nel nulla. I cosmisti del XX e del XXI secolo sono filosofi che sostengono la possibilità di rendere immortale il corpo o di risuscitarlo attraverso gli strumenti della scienza. Questo immortalismo scientifico non ha nulla a che fare con la visione cristiana della vita eterna, ma ripropone in maniera tecnologicamente aggiornata la ricerca dell'elisir di lunga vita praticata nel corso dei secoli da alchimisti ed esoteristi. Quando morì Lenin i comunisti, i cosmisti russi ne fecero imbalzamare la salma convinti che sarebbe un giorno risuscitato. Se Cristo era il primo genito della risurrezione promessa dalla religione, Lenin sarebbe stato il primo risorto della scienza e Lenin attende ancora oggi quel giorno nella sua bara di vetro davanti a cui si recano in pellegrinaggio vetero e neocomunisti. Oggi l'immortalismo è professato da alcuni magnati ed imprenditori della Silicon Valley che stanno sovvenzionando scienziati e medici per arrivare a sconfiggere la morte. Peter Thiel, co-fondatore di PayPal, ha dichiarato che la maggior disuguaglianza umana è tra chi è vivo e chi non lo è più e che la morte è un problema da risolvere. Dmitry Itskov, un miliardario russo fondatore di New Media Start, con il suo Project 2045 si propone di trasferire l'intelletto umano in un computer per farlo vivere in eterno. La prima fase del progetto di Itskov prevede la costruzione di un robot umanoide che possa essere comandato a distanza. La seconda fase è l'estrazione del cervello di una persona a fine vita per trapiantarlo in un cyborg dalle fattezze umane. La terza fase ha come obiettivo la creazione di una replica digitale del cervello sul cyborg umanoide. La quarta fase nel 2045 prevede di realizzare un ologramma identico all'uomo ma smaterializzato per cui l'individuo sopravviva solo nella dimensione digitale. Tutto questo naturalmente suppone che la memoria, i ricordi, l'esperienza di un essere umano in una parola, la sua anima, siano una realtà psichica, non spirituale, una realtà materiale su cui la scienza possa lavorare. Queste follie vanno contro la ragione prima ancora che contro la fede religiosa. L'evidenza dimostra la realtà della morte che è il limite invalicabile dell'uomo e da questa evidenza nasce l'istinto di sopravvivenza che è l'istintiva repulsione di ogni uomo nei confronti della morte. Ma in ogni uomo la paura della morte si accompagna all'aspirazione all'immortalità che è una tendenza ancora più profonda e più insopprimibile dello stesso desiderio di conservare la nostra vita corporale. L'istinto di conservazione della vita lo abbiamo infatti in comune con gli animali ma gli animali non desiderano una vita oltre la morte perché non possono pensarla. Nell'uomo esiste il desiderio di superare la morte. È proprio a partire da questa osservazione che può essere razionalmente dimostrata l'esistenza dell'anima. Se noi a differenza degli animali siamo capaci di pensare e di desiderare cose spirituali come l'immortalità vuol dire che abbiamo in noi un organo spirituale irriducibile alla pura fisicità. Ma mentre tutto ciò che è materiale è quantitativamente scomponibile e destinato alla corruzione ciò che è spirituale è in sé indivisibile e incorruttibile e quindi immortale. Quella che sembra morte non è morte è disfacimento del corpo ma allo stesso tempo sopravvivenza di una parte del nostro io l'anima spirituale. A questo punto interviene la fede. La chiesa ci insegna che Adamo il primo uomo è bel dono dell'immortalità ma l'ho persa in seguito al peccato originale. Da allora la morte entrò nel mondo e costituisce il limite della vita umana. La morte avviene per la separazione dei due principi costitutivi dell'uomo l'anima e il corpo. Il corpo si disfa. L'anima sopravvive fino al momento della risurrezione finale dei corpi. Se però l'immortalità dell'anima può dimostrarsi con la ragione l'immortalità del corpo che si manifestareà con la risurrezione finale è un miracolo della potenza di Dio e come insegna Sant'Omaso supera ogni capacità dell'intelletto umano. La nostra fede nella risurrezione incomincia da un fatto e da una promessa. Dal fatto della risurrezione di Cristo e dalla promessa della nostra risurrezione personale perché come dice San Paolo colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi. Colui che ha risuscitato il Signore Gesù che è Dio e non la scienza sarà la causa della risurrezione dei corpi. Questo è il dogma centrale della nostra fede. Se non vi è risurrezione dei morti scrive ancora San Paolo neppure Cristo è risorto e se Cristo non è risorto nulla è la nostra predicazione ma anche nulla è la vostra fede poiché noi saremmo dei falsi testimoni di Dio. La posizione dei cosmisti è intrinsecamente contraddittoria. Essi riducono l'uomo a un composto puramente materiale di corpo e di mente negando l'esistenza di Dio e di un'anima spirituale ma nel momento in cui la loro testa concepisce idee spirituali come quelle di immortalità e di risurrezione contraddicono il fondamento materialistico della loro visione filosofica. La lugubre visione del mondo del frate apostata Giordano Bruno che cercava di conciliare l'inconciliabile rendendo eterna e divina la materia riaffiora nell'immortalismo scientifico del ventunesimo secolo.